ciao ragazzi ciao ragazze oggi facciamo i muffin al cioccolato con la nutella che è dentro il frigorifero dopo vado a prenderlo dopo vado a prenderla dai via non è che devi fare vedere dentro dai via devo guardare gli ingredienti spiega gli ingredienti due uova questa adesso mi metto a mescolare e quella è la farina adesso mi metto a mescolare due uova grandi e dovrebbero essere tre ma sono troppo grandi allora faccio due dobbiamo fare veloce perché c'è il grande fratello zucchero 180 grammi di zucchero mescolo un attimo che burro prendo un po di cose burro 200 200 200 di burro inquadro la farina inquadro la farina poi stai inquadrando la famiglia da vicino il caffè cacao amaro cacao amaro 60 grammi vediamo com'è adesso vediamo com'è adesso 2 e 32 12 minuti stai immaginando dai devi dire una cosa un po' di il colore della meh no il colore della cacca guardate la faccia della mamma per il mio detto adesso la farina 300 grammi di farina 300 300 300 ml 300 grammi ml sono il latte le cose acqua e poi ce ne sono altre che non ha usato no perché un po' alla volta bisogna metterla di mescolare voi fate un po' come volete mettetela tutta o un po' un po' un po' come fa la mamma un po' un po' perché sennò vi è fuori una cavolata ascoltate me che sono esperto guardate la faccia della mamma esperto la prima volta che ha fatto la torta di mele ha dimenticato di mettere il lievito è venuta fuori una roba invece la mamma mi ha detto che era tosperiente vado a vedere la torta di mele ci sono le nomination sono e mezzanotte e cinquanta quattro è l'una e andate ma che ha inquadrato l'orologio l'una e cinque e c'è ancora il gran fratello ma coglioni una bustina di lievito sto leccando la farina sono 16 grammi di lievito mescolo 16 ml però mi sa che bisogna aggiungere un po' di latte un po' di acqua vado a prendere il latte adesso metti qua inquadra il mmm provo a assaggiare se è buono un po' di latte un po' di latte aggiungo la cuora perché mi sembra mmm che buonazzo Bruno ti vuoi spostare chi ecco 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 ragazzi devo stare così perché a mia mamma gli do fastidio l'inquadratura così un po' di latte assaggio che è che stanno nominando non ho capito vabbè dopo capirò ragazzi e ve lo dirò sotto la community poi lasciamo ragazzi lasciamo la ricetta nella community di youtube scusatemi colpo di tosse di pochi eh famelona è risultata positiva adesso inquadra questo che io vado a prendere la nutella salutiamo famelona non fateci caso io la nutella l'ho congelata così sono venuti fuori dei cioccolatini adesso faccio così vabbè questa facciamo vedere no 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 adesso faccio vederne uno ne faccio vedere uno e dopo stacchiamo allora qui così poi dopo prendo stacco una cosa di nutella gliela metto in mezzo e poi la ricopre con un'altra cosa esatto però poco perché se no riescono mi sa che esplodono o riesce quando mi sa che esplodono non esplode niente ok io li faccio tutti e ci vediamo dopo allora sono venuti fuori 12 mappine poi una piccola tortina adesso lo metto in forno a 180 gradi per 20 25 30 minuti dipende dal nostro forno come come gli braff metti in forno e ci vediamo dopo per che vi devo far vedere come sono in forno ok ecco abbiamo finito guardate che belli che sono e vi faccio vedere anche il cuore con il cuore morbido di un'intervola mentre questa è così il tremosto è la donna ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti